Ciao creatura, io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kuzai ASMR. Ah, mi immagino che ogni volta che dico la mia intro tu la ripeti con me, magari nei tuoi pensieri, perché è sempre quella quindi l'avrai imparata a memoria. Buona domenica. Sui nostri mobili, più che altro sui mobili della nostra protagonista, 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 protagonista. Unpacking. Buona domenica. Buona domenica a chi lo guarda di pomeriggio e buona domenica a chi lo guarda di sera, ma può relax anche a chi sta guardando il video che non è domenica. Perché c'è chi lo recupererà altri giorni o chi se lo sta riguardando anche. Iniziamo questa nuova puntata. Non ci credo. Piove fuori nel gioco, piove fuori anche nella realtà, perché oggi sta piovendo. Mi sento proprio immersa in questa nuova puntata, in questo gioco, perché letteralmente c'era pioggia anche fuori dalla mia finestra. Qualcuno mi aveva scritto che questa andava in cucina, però a me piace anche qua. Andava vicino al candelabro, perché fa parte della cultura ebrea, ebraica. Vabbè, la pomola la rivediamo insieme. Il da farsi. Non sbaglio, ma c'è un pulcino nuovo. Questo qua non me lo ricordo. Questo qui giallo, ma era... No, aspetta, quello nero qua. No, perché ho detto, ma è quello nero, ho cambiato colore, ma... Ma ecca, ti sono pulcini finti, perché qui c'è... Visto, c'è... L'avevamo messo uno a acquisto. Non mi ricordo. Comunque adesso abbiamo un fantastico divano. Bellissimo, quelli a penisola, mi piacciono tanto. Spero che sia anche divano letto, perché sono ancora più comodi. Questi qua, i divani a penisola, sarà un divano Ikea. Allora, abbiamo... Andiamo a vedere le stanze. Soggiorno, cucina. Eh, magari lo mettiamo qui sotto al candelabro, così facciamo felice la nostra creatura. E sono le stanze dell'altra volta, solo che hanno aumentato, abbiamo già guardato. E... Vediamo cosa ci manca. Questo non ci manca, qui non c'è niente da fuori. C'è la camera da letto. Allora, questo è già stato fatto. Non c'è neanche una scatola. La cucina, il soggiorno, il bagno, la camera da letto, li farei tutti io oggi. Allora, la camera da letto ne ho un sacco, la lasciamo lì. Mi fa voglia fare la cucina, per prima. Andiamo alla cucina. Che belle queste piantine, Gras. E appoggio un attimo qui, anche se non è il posto giusto, secondo me, perché prende tutto il calore. Abbiamo gli scatoloni bianchi, eh. Che cacchio è adesso questo? Portavino. Eh, ma dove lo mettiamo non c'è posto. Oddio, già, sto in crisi. Questo è quel contenitore in bambù per fare le cose al vapore, no? Non è quello. Oh, oh. Non ci sta niente. Oh, oh. Ah, qui, lo possiamo mettere qui. Ok. Sì, la vaporiera, ok? Anche qua mi nasconde il miele. Ok, allora facciamo così. Ecco qua. Benissimo. Cos'è la friggitrice? La friggitrice, credo. Questo è un bimbi, forse. Altre tazze. Mettiamo qua, intanto. Grattuccia formaggio. Grattuccia, grattuccia, formaggio, grattuccia, formaggio, grattuccia, formaggio, grattuccia, formaggio. Bella. Allora, sopra i miei grumi, quanti gadget nuovi che abbiamo? Che cos'è questo? Una mega salsa di soia. Che cos'è questa salsa gigante? Non lo so. Non lo so, la schiaffiamo là dietro. Bello, questo lo mettiamo qua perché è verde top, ci piace tanto. Abbiamo anche le tovagliette verdi, siamo proprio noi. Ce ne stanno due, aspetta. Bello, bellissimo. Una nuova calamita. Una nuova calamita. Una nuova calamita. La calamita forma di popò. Allora facciamo così. Adesso sì, che ha senso. Un nuovo mistolo. Che ovviamente non ci sta da nessuna parte. Oh, eccolo qui. Il... Ce l'ho anch'io questo, quello per fare le palline gelato. Però qua non ci sta più niente. Accidenti, accidenti. Qua ci sta. Accidenti, accidenti. Andiamo qua intanto. Tanto non mi andrà bene a fine gioco. Un'altra calamita. Un... Questo qua, credo che sia, se non sbaglio. No, come non ho detto. Pensavo fosse quella... Quella cosa, che non so come si chiami. Quell'utensile. Utensile. Dove appoggiamo sopra i mestoli e i cucchiai che stiamo usando in cucina per non appoggiarli sul tavolo. Che qualche differenza fa, non lo so. Comunque, oppure lo mettiamo qua come fruttiera a forma di pesce. L'aceto. L'aceto. Oh, deciso io, l'aceto di riso. Deciso io. La paprika. Altre cose. Oh, il pestarolo, come si chiama. Il testarolo. Allora, quello per fare il pesto. Altro margherita. Eh sì. Altro sunflower. Giro sole. In inglese, capito? Allora, è tutto messo in male. Questo, siamo sicuri che è quello per il vino? Io no. Lo metto qua in alto. Non sono sicuro che sia quello per il vino. Forse è un portascarpe. Non lo so. Allora. Non mi piace tanto. È tutto disordinatissimo. Non mi sta soddisfando molto come abbiamo messo le cose. Cioè, che altura. No, per niente. Allora. Allora, allora. Allora, 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 allora. Infatti, non c'è sistemazione differente. Che adesso questi ci stavano? Io sono andata a togliere, io non ci stavo più. No, forse non li lascia stare. Ha tanti oggetti e poco spazio, devo dire. Voglio lasciare il disordine, il caos. Poi dopo, se il gioco mi dice, no, non puoi lasciarlo lì. Ma scusa, questa piantina si può mettere qua. Non so come è arrivata a metterla lì o a prenderla. Però, volevo metterci questo qui. Qua. Dove mi era stato detto? Ecco qua. Adesso si ha senso. Benissimo. Poi, questa qua, niente. Facciamo il bagno. Poi lasciamo la camera da letto. Ok. E va bene. Intanto facciamo il bagno. Tante belle piantine. Magari poi la piantina o la mettiamo in vasco da bagno sopra al water. Anche no, la metterei qua. Ecco, poverino. Una piantina in bagno. Allora. Ci sta qua per il make-up. Altre cremine. Altro make-up, credo. Non me lo fa mettere. Comunque, Stella, c'è tante cose. Poco spazio, devo dire. Già. Sposterò un po' di roba che poi dopo lui mi dirà. Gna, 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 mi mettono qui. Oh, cacchia, allora. Mettiamoli qui una volta. Eccoci qua. Bene. Ok. Oh no. Oh no. Chi sta qua? Si chiude il cassetto, sì. Eccolo. Che è questo? Piegaciglia. Credo. Chi sta? Perfetto. Lo scrub, lo mettiamo qua. Lo facciamo in doccia. Ok. Oh, il blush. Qua non ci sta, quindi andiamo a mettere qua il make-up. Ok. Oh no, non ci sta tutto qui. Allora, qualche crema. Allora, qualche crema, la mettiamo via qua. Nope. Qui, tra il make-up. Questa sicuramente è una crema viso, idratante. Questo è lo scrub, lo vorrei lasciare qua. Mi ispira come scrub, però mi sa che... Questa divisione così. Altri assorbenti, perché non ce ne sono mai abbastanza. Un asciugamano. Asciugamanino da manino. Cosa pensavi? Che ticessi? Ok. Ah, però abbiamo aggiunto degli asciugamani, vedo. Interessante. Il tappetino, finalmente, un tappetino per quando si esce dalla vasca da bagno, per non scivolare la spugna. Ma, aspetta un attimo. Abbiamo due spugne. Abbiamo due spugne. Interessante questa cosa. I pastolettini, penso che fossi il naso. Una spazzola gigante. Una spazzola in pettino gigante. Ok. Non mi piace, ma ci sono uno spazzolino. E non abbiamo trovato... Possiamo prenderlo dalla cucina, se non lo troviamo, eh. Prendo questo. Secondo me questo va in bagno. Anche se non c'è più quello scheggiato. Perché... Ora non mi fa poggiare nient'altro. Ma questo... Vabbè. Vediamo se riesco a mettere a... Eh, vorrei metterci... Questi me li fa mettere, tipo... Volevo metterli una sopra l'altra, ma non me li fa mettere. Se mi facessi mettere una sopra l'altra il make-up qua, mi piacerebbe tanto. Vediamo. Ah no, il fart qua. Non so se è fart. Mi sarebbe piaciuto metterli insieme qua il make-up. Fare la postazione make-up. Non me lo fa fare. Incidenti. O metto... O metto il blush qua. Oppure, vediamo... Oppure, vediamo... Niente. Li metto qua. E... E questi li metto qua. E questo... Mi fa strano lì. È troppo diversa. Mi sa che questi qua scuri sono da uomo. Eh... Dividiamo le nostre cose. C'è qualcun altro in casa adesso? Questo li mettiamo qua. Questo ci sta qua? No. Tanto so che ce ne pentiremo maramente che non andavano lì. Ah, ma qui c'è, vedi? Il nostro spazzolino. Ecco, nascosto. E va a far più, però, vai tu su nascosto. È nascosto. Ecco. Così mi piace di più. Questo lo mettiamo più... Così, centrato. Ok? Così mi piace già di più. C'è un ospite con noi. Beh, a sto punto non sono tanti minuti. Facciamo tutto. Vediamo. Camera da letto. Sono curiosa, creatura. Facciamo il soggiorno. Ok. Qua metterei tutte le nostre... Si possono mettere anche sulla finestra, che mi piace di più. Onestamente. Però che ci sono anche queste piantine. Questa è super chiudda. Ah, non si può mettere qua. Mettiamo qua. Carinissimo questo. Ok. E mo' cos'è sta roba? Oh no. E ha questo. Un biglietto di qualcosa, un ricordo. Ci sono tutte queste scatoline che non so cosa contengono. Oddio, deve aiutarmi, questo non so cosa sia. Abbiamo vinto qualcosa in campo cinematografico. No, non lo so. No, no, aspetta. Sto vuol dire contordo. Oh no, aspetta. Ok. Ma, cosa sono questi? Mettiamo qua sotto. E' un computer. Non lo so. Cuscino. L'altro cuscino. La copertura. No, no, aspetta. Aspetta. Ah, lì non ci sta più niente. Lo squalo, guarda. L'ombrello. Un drago fichissimo qua, non so. Abbiamo un sacco di libri nuovi. Un gioco tipo da scatola, credo sia un gioco. Che gioco è? For Exposure. Non so cosa sia. Ok, abbiamo dei giochi nuovi da scatola. Questo qua per annaffiare piante, un annaffiatoio. Lo spruzzino, se non è per le piante. E' un sacco di cose orientali, vedo. Anche questi mi sembrano orientali. Anche questa cosa. Decorazioni orientali. Anti-hero. Season 3. Mettiamo in camera questo. E' un sottobicchiere. Un altro sottobicchiere. Questi sono in cucina, mi so. E' un mortal combat. Un altro sottobicchiere. Tutti i visogiochi questi. Se non ci stanno disposti un di là. Bello. Questo merita di stare qui in alto. Insieme al ranocchio. Un vaso senza nulla dentro. Cos'è questo? Ah, la terra per i vasetti. Ma, proprio qua li mettiamo. Questi libri non ci stanno più qua. Mettiamolo qua. Ecco, mettiamo le cose per i vasetti. Sono sottobicchiere. Finito. Le mettiamo qua i sottobicchiere. Non so, a questi cosa servono? Ah, come è da così? Mi piace di più. Ok. Tanto poi, se abbiamo sbagliato qualcosa, come al solito, ce lo rettifica. Questa qua, perché sta qua. Che cos'è questo? Ti amo qua. Mi piace la sua. Ok. Carini siamo. Patatini. Vabbè, ormai facciamolo tutta, così scopriamo i segreti. Ok. Allora, cioè, vedi? Vedi che è stato introdotto un nuovo comodino? Quindi c'è una seconda persona in casa. Dei leggings brutti. Mettiamolo qua intanto. Ha un sacco di leggings. Oh, questo tigrotto qui. Super carino. Sembra super carino lui. Tigrottino, tigrottino, tigrottino. Il nostro stivale. Ops. Stivale, dobbiamo metterli qua in alto. Un'altra crucia. Crucia, crucia. Oh, che bel vestito. È sexy. E non so se ci sta perché qua ce l'hanno messi tutti. E niente, lo dobbiamo posizionarlo qua. Ok. Che carino. Oh, mettiamo qui. Ah, c'è questa nuova. Questa serie che ci piace tanto. Abbiamo anche il cappellino. No, non lo voglio. No, aspetta. Qui mettiamo mutandine. Che belle. Ah, questi sono i calzi. Ci sei, no? Sti rosa o quali? Ah, ecco. Tipo una camicia da notte, credo. Sì, abbiamo le camicie da notte. Saremo mica due donne. Ma. Abbiamo la t-shirt della della serie. Wow, un bel vestitino. Che belli questi vestitini. Belli, mi piacciono. Questo qua rosso è topo, è bellissimo. Allora, mettiamo un po' le conneve corte qua e qui i vestitini mettiamo di là. Così ci sta tutto meglio. Interessante. Qua possiamo metterci qualcosa anche. perché abbiamo due qualche toghi? Eh, come vuoi? Uno mettiamo qua e uno mettiamo qua. ok. abbiamo fatto il completo wow carina questo top carini questi top qua avevamo messo i pigiami quindi qua mettiamo le camicie da notte ok ma sbaglio sono tutti vestiti un po' tutte cose un po' tipo anni 70 che bel cappotto abbiamo detto che le giacche vanno di là aspetta oh no oh no eh allora aspetta dobbiamo spostare un po' di cose vabbè dopo la mettiamo lì anche se tiene ancora più più piccina la metto qua intanto dopo la mettiamo di qua allora questi pantaloncini questa la voglio mettere qua ok allora facciamo così vestiti tutti vicini tra di loro però mi sa un po' di spazio perché devo farci stare la giacca ok ok il cappottino insomma ok ok però allora farei così vestiti metterei qua non ci stanno perché c'era cassettia l'accidenti accidenti 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 se lo metto qua no che non te lo metti non me lo vuole mettere qua allora fammi pensare anche questi vestiti no mi fa mettere il primo mese è con il nobile ok due motivo a volte non me lo fa mettere allora qua si può mettere una cosa corta ok 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 non ci stiamo qui ok ok che se va benissimo ok così mi va bene ok poi possiamo mettere le conne così ok adesso mi piace di più e potremmo mettere la gonna così e così e poi i top perfetto ok qua c'è una le camicie no ehi ehi fai scassetti qua mettiamo la maglia e i pantaloncini stivi ok poi le cuffie e che cos'è questo adesso lo fa mettere per terra lo fa mettere anche qua mettiamo qua non so cosa sia ok incenso porta incenso l'incenso ok secondo me è è asiatica la persona con cui viviamo perché ha tante cose orientali i sandali rossi si erano un po' rovesci destra sinistra ok oh oh non ci starò più ecco sono degli stivaletti aspetta no questi non si possono mettere più in qua accidenti c'è sto stivaletto qua selvaggio da solo bello ho messo così proprio allora via la borsa la borsa ora borsa la vita ok la borsa ok già meglio allora le piante dovrebbero stare in camera da letto perché le piante di notte prendono l'ossigeno quindi le piante non dovrebbero stare non si dovrebbe mettere le piante in camera da letto quindi io le vado a spostare magari posso prendere e tenere una piccola pianta grassa ma le altre devono sluggiare vabbè se lo facciamo così per bellezza fingendo che siano piante finte si può anche fare ma le piante vere non devono andare in camera da letto ricordate la creatura questa ce la mettiamo qua questa la mettiamo qua pollice verde ho trovato un busticino per ogni pianta perfetto forse perché le metto vicino alla finestra per quello forse abbiamo preso un achievement vabbè oh no questo tenizio adesso dove lo metto non c'è più post qua un mini bloc note una penna un'altra gruccia no un altro sito li ho appena sistemati no aspetta vediamo questo altro troviamo oh no oh no ma un sacco di leggings li mettiamo tutti qua ok pantalancini li mettiamo là insieme alle cose estive ok vabbè dai sì un attimo le sue voci sei lì un secondo accidenti allora qui abbiamo messo i pantaloni corti e le maglie maniche corte e poi qua mettiamo gli altri calzini alzati ok poi queste cose qua allora questo non ho visto ok qua qua un numero qua vanno spostati c'è un'altra maglietta qua corta questa perfetto bella così mi piace tutto di più allora questo peluche vuole stare a letto perché è il peluche della nostra conquirina non so amica migliore amica avanzata però non voglio troppi peluche già c'è questo già c'è il laguma questo qua vabbè lo spostiamo lo spostiamo lo spostiamo sapevo che c'era quello per fare i gelati che non gli va bene lo spostiamo qua tanto è che è bello ok questi ovviamente qua non gli vanno bene li metterei qua se invece li fanno mettere vediamo si qua gli va bene non so cosa sia non mi piace messi così però fammi pensare non mi piacciono non mi piacciono qua vanno benissimo ovunque tranne che qua sotto in questo tavolino qua no ok non ho idea di cosa siano non me li fa neanche mettere in 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 fila vabbè ok magari andavano bene anche qui allora li mettiamo qua ok oh va bene questo questo lo possiamo mettere comunque vabbè e poi qua gli va bene tutto però adesso devo decidere se a me va bene tutto così tipo questo mini libro qua non mi piace cos'è poi boh lasciamo lì per carità non andiamo a toccare altre cose anche se questo sarebbe meglio qui eh già meglio già meglio già meglio molto molto meglio ok perfetto e i giochi da tavolo ci stanno qui tanto per sapere eh dai non male non male non male sì dai può andare può andare può andare andiamo a vedere in cucina cosa che non gli aggrada ovviamente non gli aggrada il il cucchiaino per fare il gelato possiamo metterlo qui no possiamo metterlo qui no qui no il frigo non si apre sopra il frigo oh no sopra qua sopra qua qui non ci sta non me lo fa non me lo fa mettere qui c'è posto non c'è posto ovviamente qui qui l'abbiamo messo non lo vuole a questo punto mi viene il dubbio non è il cucchiaino per fare il gelato io ti fermerai il gioco così con questo quesito forse qui c'è qualcosa che mi hanno sbagliato qua secondo me e secondo me va al posto la cucchiarella 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 qui ci sono di sotto i bicchieri e ades e ades no si che mi tutto no perché ho fatto così allora abbiamo posizionato uno ma adesso non va più bene l'altro no oh no ho fatto bene ok mi sono sentita un attimo di sonno e adesso quelle sono le candele che vanno con quel candelabro lì quindi io le ho messe lì vicino però vabbè è andata così molto bene ce l'abbiamo fatta amore hai spacchettato tutto nel 2015 abbiamo preso un adesivo con due persone che si amano diciamo ecco e nuove avventure culinarie mi attendono novembre 2015 interessante andiamo a vedere cosa ci aspetta nella prossima puntata 2018 wow una casa nuova grande non so perché abbiamo un po' di di scatoloni marroni un po' bianchi abbiamo ben wow anche l'entrata che bello abbiamo la casa molto più grande sbaglio c'è anche il garage fantastico questa qua la prossima puntata la dividiamo ero troppo fomentato per sapere ero troppo curiosa creaturata ho dovuto farlo a casa allora abbiamo che bello abbiamo anche il giardino questa sala da pranzo lo studio lo studio ha cioè sono una puntata viene con lo studio ora quante scatole il bagno è piccolissimo ma scusa dove ce l'abbiamo oh oh la camera del bambino della bimba non so camera da letto senza armadio oh oh abbiamo bella abbiamo un armadio una stanza che è solo un armadio fantastico abbiamo due bagni un bagnetto così tanto per fare la pipì veloce e un bagno molto più grande con la vasca da bagno e qui cosa c'è però però eh però bella questa casa tu i piani perché va su e giù ci sono le scale poi quando schiacci va su e giù l'inquadratura bella non vedo l'ora di fare questa nuova puntata con te e con te creatura beh spero che questo video ti abbia fatto rilassare io ti auguro buonanotte buon relax buon riposino domenicale ciao creatura ciao 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 ciao